Una passeggiata in bici che si è trasformata in tragedia. Domenico e Gilda non potevano certo immaginare quanto sarebbe loro successo martedì nella tarda serata in una via centrale di Monaco di Baviera nei pressi di un parco cittadino. Il giovane ingegnere potentino Domenico Lorusso ha trovato la morte in modo orrendo. Il 31enne ingegnere Lucano avrebbe osato replicare uno squilibrato che aveva appena importunato la sua ragazza in modo repentino e sconcertante. Un ragazzo di carnagione scura, alto circa 1,75 m, sbucato dagli alberi e ha sferrato due coltellate che hanno raggiunto il cuore e lo stomaco dello sfortunato professionista Lucano. Mentre due fidanzati passeggiavano in bici, il balordo, probabilmente con problemi psichici o sotto gli effetti dell'alcol, avrebbe sputato a Gilda la fidanzata 28enne della vittima. A quel punto Domenico avrebbe chiesto all'uomo un chiarimento su quel gesto offensivo e privo di qualsiasi giustificazione. In quei tragici attimi l'assassino avrebbe tirato fuori un coltello e colpito mortalmente il giovane ingegnere potentino. La fidanzata di Domenico Lorusso, ancora sotto shock per quanto accaduto, ha assistito alla brutale scena a pochi metri di distanza. È stata lei ad allertare immediatamente i soccorsi. Il 31enne è stato subito trasportato presso il più vicino ospedale, ma i sanitari non sono riusciti a salvargli la vita. Le indagini dell'autorità bavaresi si muovono ora in diverse direzioni e si basano innanzitutto sulla testimonianza della ragazza, che potrebbe anche aver fornito un preciso identikit dell'assassino. L'aggressore, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere anche italiano. Domenico Lorusso si era trasferito in Baviera da un paio d'anni per motivi di lavoro. Prestava servizio presso una compagnia aerea e viveva con la fidanzata, anch'essa potentina. In un primo momento, data la vicinanza del luogo dell'omicidio all'ufficio brevetti di Monaco di Baviera, si era pensato un omicidio legato a questioni lavorative, un'ipotesi che però sarebbe stata subito scartata dalle forze dell'ordine. La salma del giovane è ora a disposizione delle autorità giudiziarie tedesche. Per questo al momento diventa difficile fare ipotesi sul rientro nel capoluogo e sulla data in cui verranno celebrati i funerali. Per la famiglia Lorusso, purtroppo, questa non è la prima tragedia. Circa 15 anni fa, infatti, il padre di Domenico, Giuseppe Lorusso, all'epoca presidente della comunità montana Alto Basento, era morto in un terribile incidente stradale sull'Adriatica. Oltre alla fidanzata, Domenico Lorusso lascia la mamma e i tre fratelli, Vitina, Stefano e Paolo. Questi ultimi due sono volati ieri mattina in Germania insieme all'avvocato Donatello Cimadomo per seguire da vicino l'intera evoluzione della tragica vicenda. Intanto le intagini proseguono serrate per cercare di chiudere il cerchio attorno all'assassino.